A Barletta l'elezione a sorpresa di Flavio Basile, consigliere di minoranza alla presidenza della Commissione Lavori Pubblici al posto del designato Gennaro Calabrese, espressione della lista del sindaco, ha probabilmente rotto definitivamente l'incantesimo che in questi primi quattro mesi di consigliatura aveva fatto sperare in un andazzo diverso da quelle precedenti. Invece ci risiamo stessa slealtà, stessi ricatti, stessi elementi di instabilità, con buona pace di chi continua a reagire piccato verso chi si è permesso di seguire e criticare in questi mesi i primi smottamenti apparsi insignificanti solo agli ipocriti o a chi sta all'ABC della politica. Tornando alla trombatura di Calabrese, determinata presumibilmente dal mancato voto a suo favore del consigliere del Partito Democratico Sandro Scelsi, la reazione della lista cascella sindaco insieme, di cui è espressione, non si è fatta attendere. La portavoce Carmen Craca non è andata per il sottile, accusando il Partito Democratico di essere inaffidabile e poco rispettoso degli impegni presi con la coalizione e con i cittadini barrettani, che ancora una volta, ignari di tutto, hanno creduto alle favole raccontate da alcuni consiglieri del PD durante la campagna elettorale. Non siamo convinti che i cittadini fossero proprio ignari di tutto e in buona parte hanno consegnato il proprio voto al mercato o alle clientele. Ed ora che si godano i risultati, così come bene che se li godano quelli che in campagna elettorale innalzavano solenni peana al cambiamento, la Craca chiede ora che i rappresentanti locali del PD prendano atto che gli accordi presi sul tavolo politico non sono stati rispettati. Lo chiede al capogruppo Ventura, e qui già potete cominciare a sorridere, e al commissario Cittadino Patruno, e qui potete liberamente sganasciarvi dalle risate. Più concretamente, nella nota si richiede una presa di posizione del sindaco e delle altre forze di maggioranza. Dovrà essere infatti cascella a segnare un'inversione di tendenza rispetto alle penose esperienze precedenti. Tutto sommate a lui che buona parte degli elettori di centrosinistra hanno guardato per rivotarlo, nella speranza di una discontinuità vera e concreta rispetto allo stilicidio a cui hanno dovuto assistere a causa della mancanza di reazioni da parte dell'imbelle Maffei. La situazione è ancora recuperabile, purché ciò avvenga senza cedere ai ricatti. Molti in campagna elettorale si dissero certi che cascella sarebbe stato solo una foglia di figo. Crediamo che per il sindaco sia giunto il momento di dimostrare che non è così.